ok ragazzacci benvenuti qui con un altro spacchettamento in compagnia del vostro di ablodex e dai oggi passiamo subito non farò uno spacchettamento da 510.000 come l'altra volta ma farò uno spacchettamento da 120.000 ragazzi li farò magari in serie uno magari due secondo due crediti che riuscirò ad accumulare oggi facciamo gli agenti della UEFA Champions League Stars Week 2 e prima di passare lo vabbè passiamo subito lo spacchettamento ragazzi e poi vediamo vi faccio vedere una cosa perché prima ho preso Pepe ho fatto un tiro così e mi è uscito Pepe della Juventus vai vediamo un po' se ci esce qualcosa di buono qui con questi 12 agenti che andrò a tirare vai premo qui voglio una palla nera ti prego dammi una palla nera ma dai ma no ma su subito palla oro ma non va bene non va bene se vabbè 10 partite vai a casa vai ragazzi facciamo un altro giro di palla qui oh questa volta però devo stopparlo bene questa volta voglio il pallone nero il top player no vabbè non è possibile dai non ci credo ragazzi non ci credo no cioè non ci credo non ci credo ho due palle nere di fila il telefono che squilla vabbè ok va facciamo così vabbè dopo dopo altra palla nera altro che palla nera qui non esce nulla vai mi dai una palla nera eh non ci credo ragazzi le becco tutte oro e vai era ora e ora voglio messi dammi meno non è messi ma corre però ragazzi attenzione suarez ragazzi lui sito suarez ma vieni qui dopo due palle oro era ora che usciva il top player vai così eh ragazzi allora sono gasato che devo continuare sono gasatissimo vai con la palla nera anche ora e c'è lui sito suarez ma vieni dai che oggi facciamo il pieno chi è questo chi è questo e corre anche questo ragazzi miranda maremma maiala vai così e vai sono gasato ragazzi sono gasato vai tiriamo ancora per le palle nere qui lui sito suarez il telefono che continua a squillare un attimo vai palla nera anche qui vai palla nera anche qui bene bene ragazzi è sempre una palla nera ma sono già contento che ho peso suarez sono contentissimo sono contentissimo dai dopo tutto quello che ho speso ieri ok vai un'altra palla nera ti prego un'altra palla nera ma sì dai che me lo merito dai che me lo merito siamo sulla strada giusta vai bene ottimo vai così brado vai altri 60.000 ragazzi facciamo i spacchettamenti da 120.000 perché vedo che portano fortuna o da 100.000 vabbè poi vediamo vai così vai lui sito suarez ragazzi chi c'è dai un'altra palla nera ti prego un'altra palla nera vabbè dai una palla oro ci può stare dai ho preso suarez c'è posta c'è posta c'è posta questo qui fa 10 partite se ne va fa anche rima c'è posta 10 partite se ne va vai 10.000 gp qui ne puntiamo altri 10.000 guardate che bella fila di palloni neri sta arrivando qui ragazzi vediamo se lo becco lo becco lo becco lo becco ma vieni ma vieni così ti voglio fai la corsa eh non corre ragazzi vabbè dai non corre però non corre ragazzi ma va bene così altri 40.000 dai ok facciamo questi spacchettamenti da 100 da 100.000 120.000 dai così il video dura di meno ragazzi e forse qualcosa è meglio se no 38 minuti è troppo vabbè altra palla oro però mi è uscito suarez e non posso lamentarmi non posso assolutamente male lamentarmi non posso lamentarmi se mi lamento sarei veramente un folle quindi lui sito vai dai ora però un'altra palla nera come si deve ma no altra palla oro invece ragazzi ma vabbè dai c'è non posso incazzarmi perché dai uscito suarez altri 20.000 questa botta ci mettiamo messi o ronaldo perché comunque anche questa settimana ronaldo può uscire ragazzi perché c'è anche la top 11 quindi dai palla nera ti prego ma vieni ma vieni ma vieni così ottimo sempre un giocatore da 82 ragazzi e beh vai ultimo giro di palla per questo pack opening e poi cercherò di mettere da parte altri 100.000 crediti e vedremo dai dai voglio chiudere con un'altra palla nera ottimo e dammi il top player dai dammi il top 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 player giovinco ma dai vabbè vabbè ragazzi allora dai non mi posso lamentare di questo pack opening perché mi è uscito lui sito suarez quindi ora andiamo a membri my club così faccio vedere anche oggi che ho preso pepe eccolo qui ragazzi pepe che ho preso oggi che purtroppo avevo fatto un lancio così giusto per farlo e poi mi è uscito pepe che comunque i valori sono sono buoni dai non ci possiamo lamentare ok poi chiudiamo in bellezza ragazzi con lui sito suarez e quindi vabbè anche miranda ragazzi è uscito che non si può dire nulla quindi questo pack opening si conclude qui in compagnia del vostro diablo tex e ci risentiremo nei prossimi pack opening e gameplay ciao a tutti ragazzi con la gente di champions week 2 ciao a tutti a diablo tex ciao ciao